Ho incontrato una ragazza. Ne incontri continuamente? Questa non è come le altre. Non ho mai provato per nessuno quello che provo per lui. Veniamo da mondi così diversi. Luke, i tempi dei Rodei sono finiti. È la mia vita, è tutto quello che ho. Credevo fosse la nostra vita. Ti amo troppo per vedertela rovinare. Non so proprio come possa funzionare. Non lo so neanch'io, ma voglio che funzioni. La risposta è nelle stelle, al cinema.